laudentur jesus et maria amici carissimi bentornati a questa nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a maria di magdra negli scritti di maria valtorta siamo giunti alla venticinquesima puntata e ci siamo fermati la volta scorsa appunto ancora con gli ulteriori le ulteriori appendici diciamo così del grande evento della risoluzione di nazzaro e ci siamo arrivati alle soglie di un momento molto importante che dà anche un po il titolo a questa puntata e anche al capitolo che si tratta appunto si consumerà in un fuoco di amore infinito che è quella che sarebbe stata la sorte di maria di magdran prosegue della sua vita terrena perché certamente in questi scritti seguiremo fino alla fine maria di magdran non è morta martire non ha avuto il cosiddetto martirio di ferro come lo chiamavano un tempo ma ha avuto il martirio di fuoco dell'amore perché non è morta sotto sotto il tormento dei dei martiri ma vedremo insomma morta consumata da una vita offerta in amorosa e amorevole penitenza e appunto atto di offerta di amore che è durato fino alla fine allora più che ecco spendermi in troppi preamboli lascio la parola al testo e che cominciamo a seguire riprendendo ci siamo fermati la volta scorsa vanno verso la casa fermandosi ogni tanto ad osservare il risveglio degli alberi e gesù alza un braccio e coglie alto com'è un ciuffettino di fiori da un mandorlo che si scalda al sole contro il muro meridionale della casa esce maria che li vede e si avvicina a sentire ciò che gesù dice vedi lazaro anche a questi il signore ha detto venite fuori ed essi hanno ubbidito per servire il signore lazaro interviene che mistero la germinazione pare impossibile che dal tronco duro o dal duro seme possano uscire petali così fragili e steli così teneri da mutarsi in frutta o piante è sbagliato maestro dire che la linfa o il germe è come l'anima della pianta o del seme non è sbagliato risponde subito gesù poiché è la parte vitale in essi non eterna creata per ogni specie nel primo giorno che piante e viade furono nell'uomo eterna somigliante al suo creatore creata di volta in volta per ogni novello uomo concepito ma è per essa che la materia vive è per questo che io dico che solo per l'anima l'uomo vive non soltanto qui vive ma oltre vive per la sua anima noi ebrei non facciamo disegni sui sepolcri come li fanno i gentili ma se li facessimo dovremmo sempre disegnare non la face spenta la glessidra vuota o altro simbolo di fine si bene il seme è gettato nel socco che fiorisce in spiga perché la morte della carne libera l'anima dalla scorza e la fa fruttificare nelle aiuole di dio il seme la scintilla vitale che dio ha messo nella nostra polvere e che diviene spiga se noi sappiamo con la volontà e anche col dolore far fertile la zolla che serra la zolla che la serra il seme il simbolo della vita perpetua massimino ti chiama massimino lo chiama e noi dobbiamo fare subitissimo il primo pit stop perché qui gesù sta dicendo una cosa importantissima sta parlando dell'anima ecco della grande scomparsa oserei chiamarla così o della grande assente di questi nostri sciaguratissimi tempi dove sembra che la dimensione spirituale è completamente smarrita è completamente oscurata chi è che ogni tanto pensa di avere un'anima chi è che ha un'idea di che cosa sia la nostra anima e qui gesù ha fatto veramente una una piccola sintesi da gesù quindi super magistrale allora tutto parte dal mistero della germinazione o meglio ecco appunto dal dalla dallo spirito contemplativo di mariani magdala che fa delle sapienti considerazioni in relazione a questo ciuffettino di fiori colto da gesù da un mandorlo ciuffettino di fiori gesto fatto dal dal nostro signore maestro quindi va beh molto significativo e dice vedi lazzaro fa un'analogia dice questi sono usciti fuori venite fuori è la frase che Gesù disse a lazzaro per farlo uscire dal sepolcro non c'è grande mistero sta germinazione dice qui c'è un tronco duro o un seme duro escono fuori proietari così fragili esteri così teneri e qui lazzaro fa il secondo accostamento quindi la linfo e il germe come l'anima della pianta o del seme e Gesù spiega certo non è sbagliato perché è la parte vitale nelle piante la parte vitale non è eterna è stata creata da dio per ogni specie nel primo giorno che piante e biate furono quindi in maniera generica nell'uomo però non è così nell'uomo eterna la parte vitale è somigliante al suo creatore ed è creata di volta in volta per ogni novello uomo che è concepito qui capiamo subito che come si capisce immediatamente con eterna Gesù non intende che le anime sono preesistenti e quindi eterne come dio come intendeva una parte una certa parte del platonismo peraltro mai completamente estinto nel corso della storia ma parla di anima eterna nel senso di immortale nell'uomo eterna somigliante al suo creatore creata di volta in volta per ogni novello uomo che è concepito quindi se una cosa è creata non è eterna perché l'eternità è appunto sinonimo dell'essere increato quindi però guardate questo mettiamocelo bene in testa l'anima è immortale ci erano arrivati anche filosofi pagani Socrate scrisse delle delle pagine meravigliose che poi tra l'altro sapete che quello che pensava Socrate ce l'ha detto il suo grande discepolo Platone perché Socrate non ha lasciato scritti l'ha lasciati Platone gli scritti sul suo pensiero no? ma c'era arrivato ma c'erano arrivati prima di lui anche i filosofi qualche filosofo presocratico anche se non con la stessa chiarezza del del grande maestro grande cultore della vita secondo virtù che era appunto Socrate l'anima è mortale le persone che nei momenti di disperazione facciamola finita e si suicidano ahimè fondamentalmente andranno incontro ad una grandissima disillusione perché compiuto il gesto suicida si accorgeranno che la vita non è finita mettiamoci bene in testo una cosa una volta che ci siamo da qualche parte dell'universo noi dovremmo continuare a dar fastidio per tutta l'eternità piaccia o non piaccia è meglio che ce ne facciamo una ragione il più presto possibile perché se non ce ne facciamo una ragione qui sono guai perché se l'anima fa una brutta fine dalla brutta fine non si torna indietro uno e dalla brutta fine non solo non si torna indietro ma non ci si può sottrarre in nessun modo non c'è possibilità la la frase che il Vate mise come lugubre messaggio di benvenuto alle porte dell'inferno lasciate ogni speranza voi che entrate ogni tanto dovremmo pensarci un po' io dico e continuo a ripetere che l'uomo fa una vita orribile e rischia la dannazione e di condannarsi ad una vita non orribile ma terrificante per l'eternità per il rifiuto di fare attenzione e di utilizzare quelle facoltà che Dio ci ha dato perché ne facciamo buon uso perché Gesù qui spiega molto bene una cosa uno nell'uomo eterno somigliante il principio della vita del nostro corpo è l'anima se qualcuno vuole approfondire in maniera un po' esistenziale anche fascinante questo punto gli consiglio ogni tanto faccio un po' di spot pubblicitari in senso ironico il ciclo di catechesi su teneramata per comprendere un attimo meglio che cosa è l'anima che cosa fa dentro di noi tutte quante le operazioni che oggi la medicina conosce benissimo la scienza conosce benissimo per esempio la digestione noi pensiamo che la fanno è certo che la fanno lo stomaco prima l'esofago anzi prima ancora la bocca poi l'esofago poi lo stomaco poi l'intestino tenue poi l'intestino grasso tutti quanti gli organi che entrano nei processi di digestione i vari fegati cistifelle vancreas compagnia cantante sì ma chi sta facendo quelle operazioni è l'anima nostra d'accordo che istruisce gli organi questo lo fanno tutte le anime perché tutti gli esseri umani fanno fanno questo e non è solo questo l'anima diceva San Tommaso d'Aquino è la forma del corpo espressione veramente cioè non è la forma del corpo cioè adesso non c'è tempo di approfondire queste cose ovviamente non è la forma del corpo insensalistotelico vuol dire proprio diremo un firmo sostanziale quello che Gesù sta dicendo è il principio della vita del corpo senza l'anima il nostro corpo è morto sotto tutti i punti di vista non può vivere d'accordo cioè il nostro corpo cessa di di vivere diventa cadavere per quella cosa orribile che non sarebbe mai dovuta accadere che è la separazione dell'anima dal corpo attraverso quel processo che si chiama morte che è conseguenza diretta del peccato c'è un re-heal in giro che i miei super bravissimi collaboratori ultra attrezzati da un punto di vista tecnico hanno messo in giro che è uno squarcio di un omelie che ho fatto in giorni scorsi dove dice guardate che la Madonna non è morta per un motivo molto semplice la sua anima non si è mai staccata da quel corpo mai perché perché non aveva commesso peccati e non c'era il peccato originale punto fine quindi l'anima è il principio vitale ma e quindi sotto questo punto di vista la morte lo spauracchio per tanti ma non per più di qualche filosofo pagano pensiamo alla testimonianza stasera sono un po' socratico all'eroismo di Socrate che preferisce morire piuttosto che tradire e trasgredire le leggi della polis un pagano però un pagano capite la filosofia è stata sempre una bellissima disciplina quando è filosofia bella vera perché questo è proprio un esempio quello era un pagano era arrivato ad una concezione altissima della vita perché perché pur essendo un pagano ha fatto funzionare bene il cervello ha risposto alle sollecitazioni che una mente che comincia a funzionare necessariamente provocano le grandi domande le grandi questioni esistenziali cos'è il bene cos'è il male che campo a fare che ci sto a fare sul pianeta terra che ci sta dopo la morte che cosa mi posso aspettare come la devo trascorrere questa vita terrena che cosa devo fare fino a quando sono qui in questa valle di lacrime che faccio mangio bevo dormo e penso a divertirmi a passare il tempo e e tira a campà scelte di vita non sagge la morte della carne dice Gesù libera l'anima dalla scorza e la fa fruttificare alle ore di Dio attenzione la scintilla il seme che cos'è l'anima la scintilla vitale che Dio ha messo nella nostra polvere attenzione che diviene spiga quindi diviene spiga quindi capace di produrre il grano se noi sappiamo con volontà e anche col dolore far fertile la zolla che la serra il simbolo della vita che si perpetua capite cosa sta dicendo cioè la nostra anima ecco perché al termine della vita bisogna scrivere sui necrologi ha reso l'anima a Dio cioè la nostra anima che 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 è la quinta essenza del mio essere del tuo essere però è affidata alle mie cure attraverso una cosa che si chiama volontà perché se io la trascuro la mia anima non la curo non la nutro non la faccio diventare appunto spiga come lavorandola e a volte anche col dolore per renderla fertile st'anima spiga non ci diventa e quindi non diventando spiga non diventa prumento quindi non diventa roba adatta al paradiso ma diventa pula come dice Gesù e San Giovanni Battista nel Vangelo la pula viene bruciata nel fuoco sta roba dipende da noi non dipende da Dio ecco scusate questa dissertazione però mi sembrava opportuno quanto mai opportuno cogliere un attimo sta palla al balzo perché veramente qui allora vado maestro saranno venuti degli intendenti tutto era fermo in questi ultimi mesi ma ora essi si affrettano a rendermi conti dice Razzaro perché insomma era stato diversi diversi mesi in attività per la lunghezza della malattia vado maestro vabbè ok che tu approvi in anticipo perché sei un buon padrone dici dice Gesù e perché essi sono dei buoni servi dice Razzaro e Gesù ma il buon padrone fa i buoni servi e allora Razzaro allora certo diventerò un buon servo perché ho a te per perfetto padrone e se ne va sorridendo agile e così diverso dal povero Razzaro che era da anni vedete che bello questo dialogo tra questi due grandi amici perché Gesù e Razzaro erano due grandi amici siete proprio lastima no? è dato Razzaro dice vado maestro saranno venuti si infretta a rendermi conti che tu approvi in anticipo perché sei un buon padrone insomma sentire Gesù che dice una cosa del genere penso che tutti saremmo contenti di sentire una roba del genere no? è Lazzaro che come dire si fa piccirillo come dicono a Napoli quindi non si inorgoglisce di questo bellissimo complimento dice ma no ma sono dei buoni servi e Gesù dice una grande verità perché è un buon padrone che fa buoni servi la fonte viene sempre dall'altro è un buon genitore che fa buoni figli è un buon prete che fa dei buoni fedeli vabbè e infatti Lazzaro prende di nuovo la palla al balzo e dice infatti io diventerò un buon servo perché ho per il perfetto padrone ecco a questo punto Maria resta con Gesù adesso arriviamo al clou della puntata in oggetto e tu Maria diventerai una buona serva del tuo Signore chiede Gesù risponde tu lo puoi sapere la buoni io io so soltanto di essere stata una grande peccatrice Gesù sorride hai visto Lazzaro egli pure era un grande malato ma non ti sembra che ora sia ben sano così era buoni tu l'hai guarito ciò che tu fai è sempre totale Lazzaro non è mai stato così forte e allegro come da quando è uscito dal sepolcro tu l'hai detto Maria ciò che io faccio è sempre totale perciò anche la tua redenzione è totale perché io l'ho compiuta bellissimo questa cosa che Gesù sta sta dicendo bellissime anche grandemente consolante ripeto la storia di Maria di Magdala è quanto di più edificante ci possa essere specialmente per chi ha avuto come lei la sorte indipendente da tante cose che Dio solo sa e giudica di essere stato un grande peccatore o una grande peccatrice siamo all'antivigilia della festa della divina misericordia ecco Dio incidenza certamente non casuale come ogni anno mi toccherà fare le omerie in questa festa dove bisogna mettere un pochino di puntini su tante i perché se non ci fosse la misericordia poveri noi stiamo anche credo in molti facendo la novena alla divina misericordia segnata da Gesù a Santa Faustina saremo tutti spacciati saremo tutti morti anche chi non fosse stato un grande peccatore alla Maria di Magdala o peggio però c'è un problema che la divina misericordia funziona con delle condizioni ben precise la redenzione di Gesù per la Maria di Magdala è stata totale certamente ma la conversione di Maria di Magdala è stata totale il pentimento di Maria di Magdala è stato perfettissimo anche se ovviamente come ogni pentimento perfetto suscitato e causato dalla grazia però suscitato e causato sì ma anche accolto e assecondato e poi cooperato da lei quindi la tua la tua redenzione è totale perché io l'ho compiuta e di Magdala risponde è vero mio amato salvatore redentore re dio è vero e se tu lo vorrai sarò io pure una buona serva del mio signore io per la mia parte lo voglio signore non so se tu lo vuoi lo voglio a Maria risponde Gesù una mia buona serva oggi più di ieri domani più di oggi sino a che io ti dirò basta Maria è l'ora del tuo riposo questo vale per tutti noi eh figli amici per tutti la cosa fondamentale è se noi possiamo dire davanti a Dio io per parte mia lo voglio però non lo voglio non lo voglio lo voglio eh non lo voglio sincero non so se tu lo vuoi dice ma certo che Gesù lo vuole quindi riprende Maria è detto signore io vorrei che tu mi chiamassi allora come hai chiamato mio fratello fuori dal sepolcro o chiamami tu fuori dalla mia vita vedete Gesù che dice oggi più di ieri domani più di oggi sino a che ti dirò basta Maria è l'ora del tuo riposo fino a quando siamo qui figlioli miei cari noi qui ci abbiamo da fare noi qui ci abbiamo da fare non sia mai che passi una giornata senza che siamo cresciuti più un po' in grazia in virtù senza che abbiamo servito il Signore senza che abbiamo fatto qualcosa di buono per Lui così come siamo capaci meglio che non vi racconto i pastrocchi in continuazione che faccio io però come possiamo facciamo con tutto purtroppo il carico della nostra miseria imperfezione e debolezza che ci portiamo dietro ecco però oggi più di ieri e domani più di oggi questo deve essere il nostro modo e la vita termina da quando il nostro Signore ci dice basta ok basta così adesso devi viene a riposare dalle nostre fatiche non è che nel frattempo siamo tutti quanti contenti di lavorare per il Signore quindi di offrire qualche fatica per il Signore anche qualche sacrificio per il Signore anche qualche sofferenza per il Signore molto volentieri e quando Maria le dice oh chiamami fuori dalla vita Gesù risponde cosa fuori dalla vita ma anche no qui ci sto facendo un pochino di 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 glossa caricata io lui risponde no fuori dalla vita no ecco carichiamola un po' fuori della vita la morte ti chiamo fuori dalla vita ma stiamo scherzando stiamo e Gesù dice e qui il testo è scritto in corsivo ti chiamerò alla vita con la V con la V maiuscola alla vera vita tutte le pazzie di oggi pazzie ecco pazzie proprio oggi a proposito delle tante cose che dobbiamo fare per il Signore ho mandato per grazia di Dio all'editore la prima bozza di un nuovo libretto il più il più lungo di quelli che adesso fino ad adesso sono stati pubblicati che si chiamerà pillole di catechesi questa è una un'anteprima assoluta dove ci sono tutti quanti gli opuscoletti catechetici diciamo così che nel corso degli anni ho scritto tantissimi anni sono distribuiti in chiesa con dei pieghevoli con degli a4 piegati tipo librettino tipo fuscoletto sulle più svariate tematiche ovviamente mirate e tese a suscitare evidentemente delle reazioni a volte delle provocazioni proprio e ce n'è uno che si chiama morire nel Signore come un cristiano affronta l'incontro con sorella a morte corporale così la chiamava San Francesco ecco oggi la morte è uno sparacchio è uno sparacchio che capite silenzio assoluto scene tipo tante volte l'ho detto ma inqualificabili gente che sta per morire non gli passa neanche per anticamera del cervello mettersi in grazia di Dio i familiari no mi raccomando non chiamare il prete non chiamiamo il prete che sennò cosa impressiona e così la fanno morire come un cane senza un sacramento senza la confessione senza l'olio santo senza il viatico senza le preghiere di raccomandazione dell'anima sono stato in tre parrocchie quindi non è che sei stato sfortunato è dappertutto così cioè la grande maggioranza dei funerali che si fanno oggi credete ho fatto sempre solo il parruco per favore credetemi sono di gente che lui non ha mai visto non sa neanche che esiste zero zero tu c'è un potere enorme cioè ricevere l'olio santo è qualcosa di importantissimo di basilare di decisivo può dipendere veramente la sorte eterna di un'anima dice io ho lottato quasi mai l'olio santo pochissimissime volte quando qualcuno mi chiama per l'olio santo dico oggi amministriamo l'unzione miracolo e non parlando della morte la si pensa in qualche modo di esorcizzare perché è concepita come il massimo male è chiaro che se uno ha l'orizzonte circoscritto alla vita terrena se la vita è tutta qui anche cristiani qualche tempo fa ci fu una crisi insomma abbastanza importante a livello internazionale diciamo così no io la cosa che ho detto tutti terrorizzati dallo spauracchio della morte o i po' sapete il mio modo di pensare com'era lo condivido non è detto che sia giusto però lo condivido bene dinanzi a questa grande calamità mostruosa vediamo un pochino le alternative il signore mi protegge e non mi succede niente si hanno rese lode e grazie al signore oppure mi succede qualche cosa di molto lieve cioè me ne starò una decina di giorni come se ci avessi di influenza questo è proprio una confidenza magari così per dieci giorni stacco un po' la spina e mi riposo un po' oppure no ricovero in ospedale starai molto male ecco questo sarebbe impegnativo ma di quanti sacrifici c'ha bisogno adesso questa nostra povera travagliata è martoriata a chiesa chi la rimette in piedi le chiacchiere che faccio va per carità di dio qui ci vuole la gente che prega se si sacrifica offriremo un sacrificio il signore mi darà la grazia di offrirlo oppure la morte la morte ma ma cioè se si scandalizza ma magari l'unica cosa che temo personalmente è di non essere ancora non lo temo ne sono sicuro pronto perfettamente non ancora perfettamente purificato non ancora spero all'inferno no ecco però dopo devi far il purgatore ma la morte non è un incubo la morte è l'unica è l'unica possibilità che abbiamo per andare a vivere quindi scusate se poi magari durante le dirette qualcuno mi faccia qualche domanda cioè per una persona che è sola è una di queste quattro ma per un piglio di dio qualunque sia una di queste quattro va bene anzi quella che è più temuta di tutti va meglio ergo ergo reazioni quelle che ci sono state anche in ambienti dove non si dovrebbero vedere ma sono proprio un segno dei tempi per quanto mi riguarda anzi degli ultimi tempi ultimi tempi non vuol dire la fine del mondo ultimi tempi andare a studiarvi il libro dell'apocalisse che significa sono i tempi del primo grande combattimento scatologico ma stiamo scherzando stiamo fuori della vita no dice giusto ti chiamerò alla vita alla vita vera ti chiamerò fuori dal sepulcro che ha la carne e la terra ti chiamerò le nozze della tua anima col tuo signore questa è la morte per noi questa è la morte quando tanti anni fa dopo un anno di via crucis morì da santo il mio caro amico Francesco il motivo per cui il motivo contingente il motivo certamente spero che sia la volontà di Dio il motivo contingente per cui la mia vita ha cambiato direzione mi ha portato al sacerdozio io quando morì Francesco io ero contento per lui era da standing ovation questo ha fatto ha fatto ha fatto uno show questo ha sofferto da santo ma questo se non aveva in paradiso ma io sono contento per te amico mio mi dispiace non vederti a lungo ma io sono contento per lui non lo potevo di troppo in giro che se no magari la madre poverina che soffriva tanto vorrebbe ammazzato comprensibilmente da un punto di vista amato mi sono contento per te è andata alla grande è andata certamente è andata alla grande perché ha dato una grandissima testimonianza però e sentite che cosa dice adesso Maria di Magdala le mie nozze ma tu ami i vergini signore il grande cruzio di Maria di Magdala è vero che il signore ama i vergini però adesso il signore deve un attimo no si ama i vergini che ci sono ovviamente non perché sono costretti a che ci sono felici di esserlo vivendo ciò che la verginità significa che è una cosa meravigliosa quando la si ama io per grazia di Dio ne sono testimone quindi non io manco morto la camera con nessuna cosa però Gesù ribatte io amo quelli che mi amano Maria vedete io amo quelli che mi amano questo è un riflesso del libro del del Siracide dovrebbe essere è un libro sapienziale tra l'altro un brano che è generalmente attribuito viene letto nelle messe in vetro sordo nelle messe mariane io amo coloro che mi amano e coloro che mi cercano mi troveranno allora questo è un amore particolare anche qui quando si parla dell'amore di Dio Dio ama tutti certo che ama tutti in un certo senso cioè nel senso che in tutti vede l'anima tutte sono sue creature e tutte sono anime da salvare quindi sotto questo punto di vista certo che Dio ama tutti ma Dio non ama una persona non ama in questo senso in quest'altro senso io amo quelli che mi amano una persona che lo offende in continuazione che sputa sopra le sue grazie che le disprezza lo attende lo aspetta c'è morto in croce prega per lui nostro signore Gesù Cristo anche la Madonna sperano che si convertano ma non è che li amano in questo senso in questo senso cioè l'amore di dilezione è diverso dall'amore di compassione ok io amo quelli che mi amano Maria e Maria ribatte ma tu sei divinamente buono Rabbonè per questo non sapevo darmi pace di sentirti dire cattivo perché non venivi era come se tutto frollasse ma che fatica dire a me stessa no no non devi accettare questa evidenza questa che ti pare evidenza è un sogno la realtà è la potenza la bontà è la divinità del tuo signore ah quanto ho sofferto tanto il dolore per la morte di Lazzaro e per le sue parole te ne ha detto nulla non ricorda dimmi il vero risposta di Gesù non mento mai Maria egli teme di aver parlato e di aver detto ciò che era stato il dolore della sua vita ma io l'ho rassicurato attenzione senza mentire ed egli ora è tranquillo questo è uno dei passaggi ve lo faccio notare Gesù sulla menzogna non ha sconti di nessun tipo non mento mai e guardate che per favore noi figli di Dio con Gesù dobbiamo essere tutti in condizione di dire io non mento mai l'ho rassicurato senza mentire quindi in certe circostanze non mentire mai non significa assolutamente dire tutta la verità sempre e a tutti anzi questo non si deve fare mai ok significa dire la verità dire sempre la verità nel modo opportuno alle persone opportune al momento opportuno ma il falso non si dice mai per questo che il giuramento non serve perché Gesù dice che il giuramento non si deve usare anche se poi la chiesa come sapete spero ha interpretato autenticamente i passaggi del discorso delle montagne dicendo il giuramento non è che si deve usare mai non si può usare per motivazioni futili ma è lecito usarlo quando ci sono delle poste in gioco molto alte per cui è inevitabile per il fatto che gli uomini facilmente mentono dover ricorrere uno strumento del genere per essere sicuri che uno dica la verità vabbè comunque ma non si mente mai una persona che parla con me o che parla con te deve sapere che quello che io gli dico è vero se gli prometto una cosa anche la fedeltà la parola umana data è vangelo sono cose belle tra l'altro sono cose che che ne so che fanno che fanno di un uomo un uomo che fanno di una donna una donna sono cose onorevoli sono cose belle mentire è una cosa becera meschina quando ti beccano che hai mentito le persone false le persone doppie spreggevolissime poverine ma spreggevolissime niente doppiezza niente ipocrisia la persona che parla con me che parla con te quello che vede quello che sente può affidarsi e di Magdala ribatte grazie signore quelle parole mi hanno fatto bene sì come fa bene la cura di un medico che mette a nudo le radici di un mare le brucia e se hanno finito di distruggere la vecchia Maria qui dobbiamo ricordare tutte le cose che nel delirio Lazzaro gli aveva invitato addosso quindi tutto il male che ha fatto quanto ha fatto stare male tutta la famiglia hanno finito di distruggere la vecchia Maria aveva ancora un troppo alto concetto di me ora ora misuro il fondo della mia obiezione e so che devo fare molta corsivo strada per risalirla ma la farò se tu mi aiuti e sentite che risponde Gesù ti aiuterò Maria anche quando me ne sarò andato ti aiuterò cioè me ne dimandala qui è già perfettamente convertita sta già lontana dal peccato i peccati non li fa più eppure deve fare molta strada dal fondo della sua obiezione cioè deve fare penitenza figlioli miei cari tanta ne deve fare e ne avrebbe fatta tantissima Maria di Magdala è nota come la penitente il titolo di Maria di Magdala è la penitente e vedrete se avete la pazienza di riare chi non ti legge da solo la storia di Maria di Magdala di Maria di Maltorta come muore e come arriva la morte estenuata da una vita di benitenza rigorosissima e Gesù non gli dice no ma non ti preoccupare io ti ho già perdonato adesso vado a soffrire la passione per te quindi non ti metto in testa queste cose tranquilla non dice questo lo farò se tu mi aiuti ti aiuterò Maria certo che ti aiuterò tu la devi fare questa cosa qui altro che anche quando me ne sarò andato ti aiuterò come il mio signore dice lei aumentando il tuo amore a misura è incalcolabile per te non c'è altra via che questa ma è troppo dolce per quello che ho da espiare tutti si salvano con l'amore tutti acquistano il cielo ma ciò che è sufficiente per i puri giusti non è sufficiente per la grande colpevole e Gesù ti batte non c'è altra via per te Maria perché quale che sia la via che prenderai essa sarà sempre amore amore se benefichi se benefichi il mio nome amore se evangelizzi amore se ti isoli amore se ti martirizzi amore se ti farai martirizzare tu non sai che amare Maria è la tua natura le fiamme non possono che ardere sia che striscino al suolo bruciando dello strame sia che salgano come uno braccio di splendore intorno a un tronco ad una casa o ad un altare per lanciarsi al cielo a ognuno la sua natura la sapienza dei maestri di spirito sta nel saper sfruttare le tendenze dell'uomo indirizzandole alla via per la quale possano svilupparsi in bene è arte difficilissima questa anche nelle piante e negli animali è questa legge e sarebbe stolto voler pretendere che una pianta da frutto desse soltanto fiori o desse frutti diversi da ciò che la sua natura comporta o un animale compisse funzioni che sono proprio di un'altra specie potresti tu pretendere che quell'ape destinata a fare del miele divenisse uccellino che canta fra le fronde delle siepi o che questo l'ametto di mandorlo che ho fra le mani insieme a tutto il mandorlo da quello accolto in luogo di mandorle colasse dalla scorza resine odorifere l'ape lavora l'uccello canta il mandorlo da frutto da frutto la pianta da resine da aromi e tutti servono per l'ufficio così le anime tu hai l'ufficio di amare allora ardi mi signore te lo chiedo in grazia e Gesù stuzzica non ti basta la forza d'amore che possiedi Maria ribatte è troppo poca signora signore poteva servire per amare gli uomini non per te che sei il signore infinito ma appunto perché sono tale dice Gesù sarebbe allora necessario un amore senza limiti e Maria sì mio signore questo voglio che tu metta in me un amore senza limiti Maria ascoltami l'altissimo che sa cosa è l'amore ha detto all'uomo mi amerai con tutte le tue forze non esigeri più perché sa che è già martirio amare con tutte le forze quindi non senza limiti non importa mio signore dammi un amore infinito per amarti come vai amato per amarti come non ho amato nessuno guardate che in questo brano c'è la quintessenza di Maria di Magna questa donna è così e sinceramente in maniera assolutamente spirituale io sono assolutamente santamente innamorato spiritualmente misticamente mettiamoci tutti quanti gli attributi di 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 una di una donna così semplicemente perché è innamoratissima di colui che immensamente amo non come lei purtroppo e Gesù risponde mi chiedi una sofferenza simile ad un roco che brucia e consuma Maria brucia e consuma lentamente pensaci quindi vedete la gente ogni tanto dice voglio fare l'offerta come vittima dico dico viva Dio fossero tutte vittime sul pianeta terra da 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 che ci sarebbe stato il trionfo del cuore immacolato di Maria dico però giovanotto giovanotto dico ci hai pensato bene non si fanno queste cose così tanto per farle no o a cuor leggero perché dopo se il nostro signore cioè se lo fa a cuor leggero il nostro signore diceva lasciamo perdere forse è meglio va bene ma se ti dovesse prendere sul serio poi sono guai poi guai cioè sono dolori sono quindi Gesù dice pensaci e Maria è tanto che lo penso mio signore ma non osavo chiedertelo ora so quanto mi ami proprio ora lo so in che misura mi ami e oso chiedertelo dammi questo amore infinito signore e adesso gustiamo si sta scenetta Gesù la guarda ella gli è davanti ancora smagrita dalle veglie e dal dolore dimessa e semplice nella veste e nell'acconciatura dei capelli come una fanciulla senza malizie col viso pallido che si accende dal desiderio gli occhi supplici eppure già brillanti di amore già più serafino che donna è veramente la contemplatrice che chiede il martirio della contemplazione assoluta Gesù dice solo una parola una sola dopo averla ben guardata quasi per misurarne la volontà si ah mio signore che grazia morire d'amore per te cade in ginocchio baciando i piedi di Gesù alzati Maria le dice tieni questi fiori saranno quelli delle tue nozze spirituali si dolce come il frutto del mandorlo pura come il suo fiore e luminosa come l'olio che da questi frutti si estrae quando viene acceso e profumata come quest'olio quando saturo di essenzero si sparge nei conviti o sulle teste dei re profumata dalle tue virtù allora veramente lo spargerai sul tuo signore il balsamo che egli gradirà infinitamente Maria prende i fiori ma non si alza da terra e anticipa i balsami dell'amore con i suoi baci e le sue lacrime sparse sui piedi del suo maestro intanto contro le rose e le visione degli apostoli il sineteo ha decretato la cattura di Gesù avvisato in gran segreto da Giuseppe d'Arimatea il maestro deve fuggire in San Maria dove continua arrivando qualche ultima parola di commento siamo verso la fine a questo passaggio qui c'è la quintessenza di Madri di Magda e la sua offerta generosa non frutto di un momento di entusiasmo non frutto di una scelta ponderata e che poi avrebbe osservato con coerenza rigorosa in tutta la sua esistenza bellissimo il gesto di Gesù ti famosi fiori di mandorlo che hanno attivato tutta quanta la nostra conversazione di questa sera ci ricorderemo anche noi no? allora dolce come il frutto del mandorlo proprio le queste sono la quintessenza delle virtù delle anime che fanno un vero cammino di santificazione dico la maestra di spirito la dolcezza essere dolce è sempre una cosa molto molto difficile secondo la purezza pura come il suo fiore terzo la luminosità la luminosità la solarità anche della nostra personalità che molto dipende dalla vivezza della nostra fede è profumata il profumo il profumo sono tutte le altre virtù noi siamo stati unti il giorno del battesimo della cresima con crisma che è l'olio profumato sapete che crisma è l'olio profumato l'olio delle consacrazioni in cielo ci stanno i profumi all'inferno ci stanno le puzze ok il peccato puzza il vizio puzza lo zolfo puzza le virtù profumano sapete quando ci sono le apparizioni mariane anche quando c'è qualche santo o padre pio si sentono i profumi delle essenze celestiali di rose di che ne so di di violette lontano da noi la puzza del peccato e del vizio amici miei cari impariamo ecco da Maria di Magdala la perfezione dell'amore no magari piano può chiedere l'amore infinito però ecco però possiamo chiedere almeno danni un amore per amarti come vai amato magari facciamo una parentesi su quello infinito perché prima di dire infinito pensiamoci anche noi per amarti come non ho amato nessuno questo glielo possiamo chiedere al Signore e a mio avviso sarebbe cosa assai saggia farlo Dio vi benedica e la Santa Vergine di Poteg una Santa notte a tutti a chi ha seguito la diretta laudet laudet e Maria di